Amici calabresi, come sapete negli ultimi anni mi sono fortemente battuto affinché le opere più rappresentative della vostra terra, cioè a dire i bronzi di riace, potessero varcare i confini provinciali, regionali e essero conosciuti in tutto il mondo, generando anche le vostre reazioni, i vostri insulti, le critiche, il vostro biasimo, i vostri vaffanculo nei miei confronti. E avevate ragione, faccio ammenda perché anche io sono stato una capra, capra, capra nel considerare i bronzi come le opere più importanti della vostra terra. In realtà le opere più importanti sono altre, sono quelle realizzate da un grande genio, da un grande talento, un talento cristallino, puro, indiscutibile, quello del maestro Felice Saladini. Felice Saladini, ultimo esponente della scuola degli illusionisti, veramente qualcosa di straordinario. Di lui possiamo ricordare soprattutto due opere di maggiore pregio. La prima, lo smemorato, si tratta di un dipinto, una figura di merda d'olio su tela, realizzato nel cosiddetto periodo amaranto, nel periodo in cui il maestro Felice Saladini si trovava a Reggio Calabria, nella sua bortega, o come viene definita da quelle parti, nella sua putia, insieme ai suoi discepoli, Cardona e Taibi, forse anche loro ignari, il grande talento che avevano accanto. Un'opera che potrebbe essere, diciamo, valutata intorno ai 750 mila euro. Poi, l'ultima, realizzata nel periodo nero, anzi nel periodo bianco-verde, si tratta della ritirata, quest'opera straordinaria, dove, con una pennellata, il maestro prima unisce le tradizioni nicastresi con le consuetudini di Sambiase, poi con un'altra pennellata straordinaria fa scomparire tutto. Ecco, l'effetto illusorio del maestro Felice Saladini, un'opera di valore inestimabile, forse neppure classificabile, ecco, il termine esatto è questo. Quindi dico, e chiedo scusa, se prima mi battevo per l'esportazione dei bronzi di Riace fuori dalla Calabria, dico che oggi a dovere essere esportato è lui, è il maestro Felice Saladini. Fuori dalla Calabria, fuori dall'Italia, fuori dall'Europa, fuori dal mondo, fuori dall'universo, fuori dalle palle che girano nell'universo per conoscere il talento del maestro Saladini, 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 Capra, 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 ho detto Saladini? Capra, Saladini, Capra. Buonasera.